ciao a tutti e bentornati so che avrei detto che per un po' avrei abbandonato la playstation ma siccome nel questo periodo ho anche finito nel frattempo ho anche finito questo gioco Knights of Azure che è uscito per tutte le piattaforme playstation almeno in giappone in occidente l'ho solo visto la playstation 4 volevo parlarvi di questo gioco si tratta di un jrpg non sono un grandissimo esperto di jrpg quindi non saprei dirvi quanto classico sia o meno io l'ho trovato un po' diverso rispetto a quello che ho giocato in passato innanzitutto perché comunque non ha combattimenti a turni a piccola premessa il gioco in inglese e siccome il punto forte è la storia è meglio conoscere un po' parlato in giapponese quindi non si non si scappa dalla conoscenza dell'inglese dicevo il gioco è un tempo reale combattimenti in tempo reale non sono turni c'è un solo personaggio controllabile per tutto il gioco ci sono invece che avere gruppi di parti sia un personaggio circondato da quattro alleati evocabili e questo secondo te non è una il gioco si svolge tramite un hub centrale in zone esplorando man mano le zone che si aprono dalla mappa quindi non è una grandissima mappa questo secondo è un po diverso rispetto a quello che ho visto fino adesso ma ripeto non sono un grandissimo esperto parlando invece della storia c'è da dire che la protagonista è una ragazza si chiama arnicia ma prima di introdurre il personaggio ci va un attimo di loro il gioco è ambientato in fine 1800 alternativo dell'europa in un'isola situata tra la gran bretagna e la germania più o meno mille anni prima un night lord stava per conquistare il mondo è stato sconfitto tramite sacrificio del primo santo però la sua sconfitta ha portato una maledizione il sangue blu il blue blood che se tocca persone oggetti animali trasforma in demoni di notte infatti il problema è che questi demoni girano solo di notti c'è problema questi demoni girano solo di notti per qualcuno almeno di giorno la cosa non si non avviene per sconfiggere questi demoni è stata creata una chiesa chiamata la curia comandata da un papa che ha organizzato organizzate in due due gruppi i sacerdoti e i cavalieri arnicia uno di questi cavalieri c'è anche da dire che un altro compito forse più importante della curia è che ogni dieci anni deve essere ripetuto il sacrificio del santo per evitare che il night lord ritorni alla casa siamo al decimo anno l'ultimo arnicia abbiamo detto un cavaliere della curia è un cavaliere molto particolare in quanto è stata toccata da sangue blu ma non si è trasformata completamente in demone non ha perso la sua umanità e questo è un cavaliere particolarmente efficiente il suo la sua ultima missione è proteggere un sacerdotessa in nome di lisette che è una sua amica di infanzia anzi non scusate non una sua amica di infanzia è stata la sua compagna quando l'ho studiato per diventare rispettivamente cavaliere sacerdotesse il gioco le presenta come due milioni amiche in realtà tra le due c'è qualcos'altro neanche troppo sott'intesa e non è una cosa equivocabile ma si quello è infatti questo due cose che ho appena detto permettono di collocare questo gioco in altri due sottogeneri rispetto a GFG sono quello come almeno ha detto Imon Ciel di Ariane Gayord waifu adesso ho capito bene sono andato a cercarmelo su internet perché non conoscevo il termine dovrebbe essere il dedicare la propria vita ad un altro e il sottogenere Yuri che rappresenta le storie d'amore tra ragazze genere assolutamente normalissimo in Giappone esiste anche una controparte maschile di cui adesso in questo momento non ricordo il nome se vi interessa cercatelo ripeto sono assolutamente normale non hanno niente di perverso di sessuale semplicemente sono generi per ragazzi infatti il gioco è vietato ai dodici perché è tutto trattato in maniera molto delicata molto soft e ripeto sono assolutamente normali in Giappone tecnicamente gioco non è il massimo lo dico già subito graficamente disegnante dalla natura trans generazionale le musiche sono abbastanza dimenticabili il gioco di per sé non è molto vario nel senso c'è sempre Arnise che deve da 15 a 20 minuti per esplorare l'area in questione e sconfiggere e raggiungere l'obiettivo di quell'area e sì ogni area a tempo si parte da 15 per incrementabile ci sono delle sotto quest che si possono fare all'interno di queste aree tipo sconfiggere un determinato numero di nemici o esplorare quest'area ci sono degli oggetti che potenziano la nostra Arnise o i suoi servitori ci sono quelle che vengono chiamate le daytime activities che però sono una cosa passiva che si guadagna al termine della missione per aumentare le skill e poi diciamo che questo è l'essenza del gioco che è diviso ancora un attimo in sette capitoli principali ognuno dei quali è sottodiviso in quattro sottosezioni almeno e il personaggio può livellare fino al decimo livello ci sono anche altre cosine da fare ma sono minori tipo c'è un'arena in cui è possibile allenarsi io sinceramente l'ho usata molto poco quindi come dicevo la punto forte è davvero la storia di Arnise e di l'Illise che è raccontata in una maniera dolcissima delicatissima e molto coinvolgente ed è secondo me questo il motivo per dare a questo gioco una possibilità mi rendo conto che questo è un periodo un po' particolare per le JRPG in quanto è uscito adesso il nuovo capitolo di Sword Art a fine novembre uscirà Final Fantasy 15 il fine gennaio a Tessal Berseria a febbraio Persona 5 quindi grossissimi calibri del nel campo delle JRPG però ripeto se avete un po' di tempo io una possibilità alla storia di Arnise la darei soprattutto anche perché l'ho trovata adesso facilmente sotto i 30 euro quindi decisamente meno di quanto andare a comprare un titolo nuovo poi potete aspettare che gli altri io farò così quasi su tutti i titoli che ho citato detto questo per quello io mio voto è un 7 e mezzo molto abbondante ora già mi sono dilungato molto però se volete potete chiudere qua ma tarderò ancora mi prenderò ancora due minuti per spiegarvi i finali non spoilerò niente non dico tattiche contro tattiche parlano come dei finali se non vi interessa potete chiudere qua io più o meno la recensione finita altrimenti visto che non sono proprio chiarissimi mi ha consigli di ascoltarli come dicevo ci sono sette capitoli e dieci livelli di personaggio al termine del gioco si possono ottenere fino a cinque finali chiamati normali questi finali dipendono dal livello di affezione di lisette e arnice questo si ottiene si aumenta tramite dei dialoghi che si effettuano quando si livella su compare una scritta con scritto livello di affezione di arnice l'illisette è aumentato ottenendo tutti e dieci livelli e ottenendo tutti i livelli di affezione corretti si ottiene quello che è il finale diciamo meno peggiore ma tutti e cinque finali lasciano un po l'amaro in bocca mi sono visti su internet io l'ho finito all'ottavo anzi al nono livello e una volta almeno non avevo preso affezione quindi non ho neanche ottenuto il finale migliore però c'è un però finito il titolo di coda ti fa salvare su un new game plus se si ricaricano questo se si ricarica questo salvataggio si scopre che due sottocapitoli del capitolo 7 sono cambiati e portano ad affrontare due boss tostissimi molto più tosti della media del resto del gioco che è prima di affrontare il finale nuovamente a questo punto se si è affrontato i boss si va sul finale si attiene quella che viene chiamata in internet la vera fine del gioco che è molto più soddisfacente a me per me è stata molto più soddisfacente questo finale è totalmente indipendente dal livello di affezione tra l'elizet e arnicia quindi se prima non avevate ottenuto il finale continuate e il finale migliore continuate comunque ottenete il vero finale della storia se e sono opzionale perchè voi il titolo di coda e il boss finale l'avete finiti quindi potete farle e non farle io consiglio di non farle certo dovete poi rifarvi la parte finale del gioco ma a questo punto sarete talmente equipaggiate avrete raggiunto il massimo livello che è aumentato da 10 a 11 che il boss finale ve lo mangerete a colazione o lo taglierete come un si taglia al buro con un coltello caldo con questo è tutto la prossima settimana parliamo di un gioco per pc che a me ha colpito molto che si chiama the town of life ciao a tutti e alla prossima